Il consigliere comunale Raimondo Micheli non è stato eletto in provincia per un solo voto, o meglio per un voto nullo, perché il suo nome è stato scritto su un'altra lista. Il consigliere che ha sbagliato deve così tornare a scuola. Pensare di non essere eletti per un voto, o meglio per un voto nullo, perché il voto è stato espresso, però il mio nome è stato scritto su un'altra lista, è chiaro che questo lascia un po' l'amaro in bocca. Chi è stato si fa fatica perché comunque il voto è espresso da un consigliere comunale, quindi da un addetto ai lavori. Pensare che nel 2014 un consigliere comunale di capoluogo di provincia sbagli a votare viene da pensare che o deve tornare a scuola, oppure è qualcosa che non voleva fare, o comunque c'è stato l'errore, l'errore accidentale. Questo errore purtroppo non mi ha consentito di sedere nei banchi del consiglio provinciale di Termo, che per me sarebbe stato un gradito ritorno, visto che ci sono stati cinque anni. Micheli si dice amareggiato perché in una elezione di secondo livello l'errore non ci può stare, a meno che non è stato fatto apposta. Amareggiato sì, ma più che altro stupito, perché quando si fa campagna elettorale lo si fa non con le elezioni di secondo livello, quindi con i cittadini, ci può stare una percentuale di errore e quindi ogni consigliere, ogni candidato lo mette in conto. Ma in una elezione di secondo livello, dove votano gli addetti ai lavori, è qualcosa che lascia un po' stupiti. D'altronde l'unico voto nullo è stato dato a me, per quanto riguarda il consiglio comunale di Termo. Due nomi che circolano in questi giorni per il franco tiratore, quello del sindaco Brucchi e del consigliere comunale Sbraccia.